Una bella vetrina di tende non è quella di un negozio ma è quella della cassa rurale di Boves che cede lo spazio ogni 15 giorni a un socio ed è la volta di Andrea Tende. Siamo con Andrea Giordano, un socio molto giovane che dieci anni fa ha scelto di fare qualcosa di diverso nella vita. Tu che cosa facevi prima di iniziare a praticare tende? Io prima ero operaio in una fabbrica qua vicino e poi ho deciso di iniziare questa attività grazie all'aiuto di mio zio che anche lui si occupa di questo e abbiamo iniziato questa avventura che è da dieci anni che va avanti. Un'avventura che ovviamente in questi momenti può avere anche le sue fasi anche perché il lavoro è stagionale quindi di qua in poi si va nel bello e poi magari ci sono tempi più difficili. Certo, il lavoro è molto stagionale purtroppo e bisogna correre un po' in questa stagione qua e è buono. Quindi il sole sicuramente per questo tipo di economia e imprenditoria fa correre. In queste corse o nei periodi magari più di stanca diventa molto importante il rapporto con la banca. Tu sei a Fontanelle che è una frazione del comune di Boves che è proprio la zona ipocentrica della cassa rurale di Boves. La banca diventa quasi una componente della famiglia proprio perché ti segue a 360 grandi. Quindi dall'azienda a, che ne so, il mutuo della casa o le cose di cui tu hai bisogno? Sia per il mutuo della casa ma soprattutto per il mio lavoro perché dato che è un lavoro stagionale la banca mi dà molta flessibilità. Quindi la flessibilità è sicuramente un valore molto importante in questo andamento altalenante del mercato. Quindi a proposito di flessibilità parliamo con Marco Cerato che è il direttore, in questo caso, della filiale della cassa rurale di Boves di Cuneo e che ha dato vita con la banca a questa bellissima iniziativa del socio in vetrina. Raccontacela un po'. È iniziata qualche anno fa, è un'iniziativa che cerca di far sì che aziende, i nostri soci, i clienti possano entrare in comunicazione proprio attraverso un punto di riferimento che è la banca. La banca mette a disposizione una vitrina reale che questa incorsonizza. Ogni 15 giorni c'è un'alternanza dei soci che hanno piacere così di farsi vedere in questa zona di Cuneo e quindi che mettono i loro prodotti, i loro servizi, le loro attività. Ed è una continuazione di una vetrina virtuale che è collegata al nostro sito dove tutte le aziende che hanno aderito all'iniziativa offrono una scontistica ai nostri soci. Quindi il nostro socio può andare presso l'azienda convenzionata e trovare una scontistica, ma una disponibilità soprattutto. Noi sappiamo di avere delle buonissime aziende, dei buonissimi clienti che grazie a noi forse si mettono in comunicazione e magari fanno anche degli affari insieme. Allora facciamo un esempio, io sono socio della Cassa Rurale di Boves, ho bisogno di tende perché inizia ad arrivare il sole e quest'anno fa un po' fatica arrivare il sole. Vado ovviamente da Andrea Tende, Frazione Fontanelle di Boves e che sconto mi fai? C'è uno sconto del 30% su tutte le tende da sole e un motore in omaggio sulle tende a braccia. Quindi io penso che andrò a comprare le tende. Grazie a tutti.